E dopo aver scatenato l'inferno nei commenti con il video Dilemma Mac contro PC finalmente è arrivato il momento di svelarvi la mia scelta probabilmente si vedrà poco l'ingombro di tutto questo materiale ora vi spiego a mano a mano cosa ho scelto per prima cosa naturalmente ho scelto un pc la scelta è purtroppo un pochino ovvia chi mi segue già sugli altri social come Instagram già lo saprà che ho scelto pc perché ho pubblicato una foto del processore della confezione davvero fighetta marra del processore partiamo subito dalla scelta e perché l'ho fatto in questo momento io ho bisogno di scalabilità cosa che purtroppo Apple in questo momento non mi permette di avere una scalabilità del prodotto e di essere sicuro che il mio investimento non vada a vuoto a perdersi nel giro di poco tempo vi faccio un esempio se oggi acquisto un iMac Pro da diciamo un budget circa 10.000 euro la mia preoccupazione è che quella spesa che incide tantissimo come budget sul budget di spesa del mio studio che devo ammortizzare nel tempo se quella macchina diventa obsoleta nel giro di poco tempo come ad esempio nel giro di un anno un anno e mezzo perché la scheda video ad esempio ne esce il modello nuovo le GPU cambiano il sistema di render purtroppo oggi viviamo in un mondo così veloce dove c'è bisogno la parola d'ordine scalabilità cioè essere sicuri di poter scalare e infatti io penso che Apple stia lavorando anche su questo il nuovo Mac Pro che uscirà probabilmente nel 2019 avrà questa caratteristica ossia di essere scalabile un po' come lo era tanto tempo fa per ora ho scelto di passare quindi a sistema PC e a chi me lo chiederà a chi dirà che comunque posso installare Mac OS su una postazione del genere e farlo diventare un Hackintosh io risponderò subito di no perché sono contrario a questa tipologia di modding semplicemente perché rende la macchina completamente instabile perché il sistema operativo per quanto sia stabile con il suo hardware quando ci mettiamo altra tipologia di hardware diventa instabile cioè diventa sul filo come camminare sul filo su un filo quindi non puoi installare un aggiornamento una novità che quel filo può spezzarsi questa cosa non la preferisco e allora andiamo di sistema operativo originale che può funzionare e quindi in questo caso sarà Windows 10 Windows che io non amo ma è purtroppo la scelta che devo affrontare Windows che ho abbandonato tanto tempo fa ma che ho imparato a riapprezzare ultimamente lavorando in studio con altre persone che comunque qui abbiamo altre postazioni Windows ci sto lavorando e alla fine mi ci trovo bene non posso dire sulla postazione performante non vada bene il problema di Windows sono sui computer meno performanti lì funziona davvero male senza tediarvi troppo vi elenco quello che ho acquistato partiamo dal processore un Intel Core i9 bellissima la confezione la faccio vedere è un dado praticamente quelli che si utilizzavano in Dungeons & Dragons quello a 11 facce praticamente è un Intel Core i9 9900K che ha 8 core 16 3rd la frequenza del processore è a 3,6 GHz e con un overclock massimo di 5 GHz non so manco come si fa un overclock ma penso che dovrò imparare a farlo questo è il problema per esempio di chi viene da Mac perché si chiude in una piccola campana la campana del tutto funziona tu non devi fare niente basta che accendi e lavori io purtroppo nasco come nerd tanti anni fa io i computer li assemblavo io li sistemavo io aggiustavamo i computer e questa cosa oggi avere timore di montare la mia macchina mi fa un po' di rabbia infatti probabilmente mi farò aiutare ma questo è argomento di un altro video allora quindi processore è una bella bombetta sul processore naturalmente parliamo di scheda madre ho scelto una Z390 Ultra naturalmente supporta il chipset Z390 supporta quel tipo di processore lì è una scheda madre interessante e allora ragazzi c'è un'altra cosa da dire tutti questi componenti sono componenti per gaming tutti quanti avranno led e lucette varie ma non è una cosa che a me interessa questa parte qui del computer io non ve la sto manco ad elencare tutte le possibilità che ci sono perché tanto parliamo di come essere professionali cerchiamo di essere professionali uno studio professionale e non vogliamo fare le cose colorate ok quindi questa è la scheda madre poi vi metterò l'elenco di tutti i componenti che ho acquistato sotto in descrizione io ho acquistato l'80% su Amazon e soltanto due componenti su un altro sito che si chiama BPM Power come il processore perché l'ho trovato in sconto al momento dell'acquisto il valore di mercato era di 800 euro trovai uno sconto a 6,50 e lo comprai ma oggi vi sono andato a vedere se lo stesso sito costa 5,50 quindi purtroppo i prezzi sono così variabili e io ho atteso il periodo del Black Friday per fare questi acquisti proprio per cercare di risparmiare qualcosa e vi dirò quanto mi è cosa del computer alla fine del video quindi rimanete allora scheda madre per raffreddare il processore che ha questa confezione c'è soltanto il processore all'interno voglio dire se riesco a farvelo vedere sì ci riesco eccolo per raffreddarlo ho preso questo Kraken X62 allora ragazzi la maggior parte dei componenti che mi sono fatto dare una mano da un mio collega che è il mio cugino professionista nella scelta di alcuni componenti perché purtroppo sono un pochino arrugginito su alcune cose infatti questo dissipatore al liquido me lo ha consigliato lui sapevo della sua esistenza e lui mi ha trovato il prezzo su Amazon Warehouse dove ho risparmato 50 euro soltanto perché è usato in realtà è soltanto una riconsegna perché poi è sigillato è nuovo quindi ho risparmato 50 euro così senza colpo ferire poi andiamo di RAM ora sulla RAM ho fatto una cappellata mega galattica la mia intenzione è di installare 64 giga di RAM DDR4 3000 MHz ora io qui ho soltanto un kit da 32 giga sono due bacchette da 16 giga all'uno io in realtà ho comprato due kit da 32 giga già mi sono già arrivati e fortunatamente le ho rivenduti il problema è che erano due kit da 4 bacchette da 8 giga all'uno quindi praticamente avevo 8 bacchette da 8 giga e purtroppo sulle schede matri ci sono 4 slot almeno su quella che ho io ci sono 4 slot quindi ho dovuto e ho speso quasi 5-160 euro ho dovuto rivenderle un pochino sotto costo per poter poi riacquistare ora mi è arrivato il primo kit da 16 giga ora oggi proprio riacquisto il secondo kit identico quindi posso cominciare a installare il computer con 32 giga di RAM poi appena arrivano le altre pam, infilo e arriva 64 dopo la RAM arriviamo parliamo della scheda video scheda video che come avevo già detto nel video precedente quando parlavo della scelta dei pezzi del computer ho preso una 1080 Ti usata vinta su un'asta di Ebay 8, 7, 4, 3, 2, 1 bam, giudicata dovrebbe funzionare spero che funzioni ho pagato praticamente la metà di quello che c'è del prezzo di listino attuale con l'idea di aggiornarla prossimamente quando la 2080 Ti uscirà dal suo periodo di debugging che sta avendo in questo periodo che ha un po' di problemucci infatti la mia scelta era quella però per il costo così elevato ho scelto di, grazie alla scalabilità di una workstation costruita da me di poter acquistare una di queste e poi successivamente staccarla e attaccare una nuova e quindi potrò aggiornare la macchina per ora però questa mi è costata 505 euro andiamo all'archiviazione allora questo è un cavo displayport un mouse per la seconda postazione ma roba minore mi sono regalato questa la Logitech Craft questa l'ho trovata in offerta durante l'Amazon Prime questa tastiera ragazzi è davvero fighissima ne abbiamo una in studio e ne abbiamo comprato altre due quindi costa un sacco di soldi ma è davvero 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 interessante per tutte le funzioni che è possibile abilitargli su quindi andiamo all'archiviazione ora qua ho quattro sistemi di archiviazione perché all'interno cosa metterò prima di tutto l'SSD di sistema che è un 970 Pro, un NVMe della Samsung da un Tera pagato tantissimi soldi di 350 euro se non vado errato e questo qui ci andrà praticamente sistema operativo e software poi un SSD sempliciotto economico trovato sempre in offerta da 120 giga della Crucial per la cache così possiamo avere un po' di cache di software come roba di Adobe o di Premiere, di After qualcosa di 3D vediamo un pochino di buttarla come cache qui sopra qui che è molto più veloce e poi ho due harddisk WD Red da 6 Tera da installare all'interno della macchina perché io utilizzo una configurazione per lavorare che è composta da harddisk di sistema e due harddisk uno dove ho tutti i progetti e un altro invece dove ho tutto il materiale di produzione che poi viene backupato anche sul NAS quindi questa è la mia configurazione ci sono due harddisk da 6 Tera che andranno a completare la mia configurazione dell'archiviazione oh c'è lo dite infine ultime due cose abbiamo questo pesa un cifro l'alimentatore del computer che è un 1000W è trovato sempre non tanto in offerta perché comunque costa parecchio un HX1000 Intelligent della Corsair questo è un alimentatore digitale in teoria dovrebbe darmi tutti i segnali e dirmi che cosa sta succedendo all'interno della macchina lo scopriremo soltanto vivendo perché non ne ho più pari di idea e poi infine il case che adesso mi alzo per farvelo vedere un Master Case H500P molto tamarro me ne rendo conto ma dovevo farci stare dentro tutto e purtroppo cose più più semplici non ne ho trovate e anche questo qui pagato circa un 300 no questo l'ho pagato 200 150 180 una cosa del genere che è sempre su Amazon ma trovate tutti i link in descrizione da considerare che tutto questo che avete visto c'è aggiunta una licenza di Windows e basta perché poi alla fine farò il porting di tutto quello che ho su tutte le licenze che ho sul Mac e le riporterò dall'altro lato comprese quelle di Adobe insomma ragazzi penso che per questo video sia tutto vi ho raccontato tutto quello che ho preso sotto qui trovate tutti i link per poter vedere gli stessi prodotti che ho acquistato io cosa trovo a dirvi se avete qualche domanda potete scrivermi qui nei commenti seguitemi su tutti gli altri social come Instagram ad esempio perché lì pubblicherò un po' di stories e fotografie mentre montiamo il computer in anteprima perché poi uscirà un video dove lo assembliamo iscrivetevi al canale così da non perdervi un pochino tutti i benchmark che faremo su questa macchina per vedere quanto è performante se davvero è una bestia come così come l'ho immaginata io e cos'altro a dirvi ci vediamo prossimamente con un nuovo video